La macchina di Maria Grazia La macchina è intestata a te? Sì, ma è la 600 che adò per la Maria Grazia Eh sì, per noi si è fatto tardi Sono scherzi stupidi In quelli rotti, va Andiamo Per me è anche stupida Poteva dire di aver bucato una gomma invece di negare in quel modo Ciao Ciao